Ed eccoci qua ragazzi, ciao a tutti sono Ara ed è arrivato un ennesimo pacco dagli States Ora la one boxiamo insieme, prendiamo la nostra solita Fendi Pacchi, compagna fedele E proviamo a togliere dalla busta postale il nostro nuovo arrivato Vi anticipo già che è un maschio, ecco qua Riesce a tagliarlo con difficoltà perché è chiuso molto bene, è pieno di scotch Vediamo se le mani fanno meglio, bene, la Fendi Pacchi ha dato il via E noi concludiamo con le mani, squarciamo senza vergogna la nostra busta E tiriamo fuori ciò che c'è dentro Ed eccoci qua ragazzi, si intravede la sagoma Togliamo l'ulteriore plastica con le bollicine Davvero incartato molto ma molto bene Eccoci qua Direttamente da The Winter Soldier Il soldato d'inverno Abbiamo Capitan America Marvel Legends Sembra davvero che tutti i dettagli siano al loro posto Comunque ragazzi, molto presto Prima del film, oppure proprio lo stesso giorno del film Ragazzi vedrete la recensione di questa figure Ci ha impiegato 10 giorni per arrivare Sono molto contento che sia arrivato in tempo per fare la recensione Prima che esca il film Ragazzi spero che vogliate vederla Fatemi sapere cosa ne pensate un po' Noi ci vediamo al prossimo video Ciao da Ara e da Capitan America